Attenzione, attenzione, perché ci sarebbe un interessamento molto, 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 e ribadisco molto, molto velato della Juventus per Dani Seballos. Chi segue un po' di calcio internazionale, chi ha seguito un po' di calcio giovanile negli ultimi tempi, sa bene chi è Dani Seballos, quindi è inutile andare a puntualizzarlo per voi. Tuttavia ci sono delle persone all'interno del mio canale che potrebbero non conoscerlo, oppure la conoscono ma non lo conoscono proprio bene come lo conoscete voi. Quindi è normale andare a dare delle spiegazioni per queste persone. Dani Seballos è un ragazzo veramente molto giovane che ha fatto ricordo un paio d'anni fa un'ottima stagione in Liga e fu comprato dal Real Madrid. Il Real Madrid è una squadra che a Seballos ha dato l'opportunità di esprimersi, ma a determinati livelli Dani non ha mai fatto la differenza. Accade che a un certo punto Zidane sfoltisce la rosa, questo giocatore che appunto è Seballos viene mandato in prestito all'Arsenal e di conseguenza fa una buona stagione lì. Ma se devo dire ragazzi che mi ha colpito nel modo in cui è andato a fare questa stagione non ve lo posso dire. Cioè mi aspettavo qualcosina di più da Seballos all'Arsenal, devo dire la verità. Che tipo di giocatore è Seballos? È una mezzala che tuttavia può giocare anche davanti alla difesa, una mezzala non tanto di inserimento, quindi non è un giocatore che si inserisce tanto all'interno dell'area di vigore, ma è un centrocampista nel pieno della tradizione spagnola. Cosa vuol dire? Centrocampista di ragionamento, centrocampista di costruzione, centrocampista proprio a livello di posizionamento ottimo. E' un giocatore molto prezioso perché secondo me è molto intelligente nella giocata ed è un giocatore che per come sta la Juve a centrocampo potrebbe rappresentare un buon nome. Prima di andare avanti io volevo andare a chiarire delle cose particolari su Seballos. Innanzitutto, l'acquisto eventuale di Seballos, e si parla solo di un interessamento, non deve, e ribadisco, non deve escludere assolutamente l'acquisto di un top player in quella zona del campo. Perché se Paradici mi porta a Seballos e cerca di spacciare Seballos per un top player, io ti dico già da ora, non è un top player. Lo dico a te che guardi il video, Seballos non è un top player. In futuro potrebbe avere delle potenzialità maggiori, potrebbe crescere molto, ma Seballos non è un top player. Il fatto che il Real Madrid se ne voglia privare dopo un paio di stagioni mi puzza un po'. È vero che il Real Madrid all'interno della propria storia ha commesso degli errori. Ad esempio penso a Robben, penso a Cambiasso, penso a giocatori che comunque poi si sono rivelati ottimi all'interno dei club successivi. Però è anche vero che questo ragazzo, valutato dal Real 40 milioni di euro, è un investimento pesante per una squadra. Perché 40 milioni di euro, ragazzi, ok, è una cifra nella media nel mercato, però 40 milioni di euro per un centrocampista che ha deluso all'Arsenal, deluso a Real Madrid, un po' mi fa pensare. Nel senso che io lo prenderei Seballos, ma solo ed esclusivamente a un prezzo ragionevole che non è 40 milioni, perché per me il prezzo ragionevole sarebbe sui 30, se devo dirlo, se devo essere sincero. E lo prenderei solamente ed esclusivamente se fosse il nome alternativo a un altro giocatore. Perché se prendi Seballos e non prendi più nessuno e pretendi di risolvere i problemi che la Juventus ha a centrocampo con Seballos, secondo me non hai ben chiara la situazione a centrocampo. Perché attualmente tra un Bentancur e un Seballos, dal punto di vista tecnico è più forte Seballos, perché con i piedi è meglio Seballos, però se noi andiamo ad analizzare nel totale, Bentancur lo supera. Cosa vuol dire? Che Bentancur ha delle competenze in più su altri punti di vista, che ha altri stili, altri modi, che ha una formazione secondo me più completa rispetto a quella che ha Seballos, che è un giocatore che soffre un po' fisicamente all'interno del centrocampo, quindi io non so neanche se da mezzale in Italia renderebbe. Perché è come se io ti dicessi, prendi un giocatore di 1,70 che pesa 70 kg e lo metti a fare la mezzale in Italia. Quanti giocatori di 1,70 che pesano 70 kg c'avete che fa le mezzale in Italia? Saranno 3-4 in tutta la Serie A veramente ad alti livelli. Perché? Perché la Serie A tipicamente è un campionato che usa delle mezzale molto molto fisiche, oppure delle mezzale che abbinano quantità a qualità. Non è un caso che giocatori come Mikovic-Savic, Pogba, Zidane abbiano avuto successo in quella zona del campo. Zidane faceva anche il trequartista, ma quello è un altro discorso. Perché? Perché sono giocatori che abbinavano fisicità a qualità. Ok? Seballos ha tanta qualità, perché sarebbe sicuramente un grande acquisto, andrebbe a giocare secondo me in maniera ottima, ma nonostante ci sia questo grande exploit di qualità, a un certo punto ragazzi dobbiamo anche renderci conto che potrebbe non essere il centrocampista giusto per farci fare il salto di qualità. Tutto qua, ve lo dico con tutta l'onestà del mondo. A me piace Seballos, ma non lo considero valevole di un investimento da 40 milioni oggi. E non lo considero da schierare titolare all'interno della Juve attuale. So che questa cosa probabilmente vi troverà in disaccordo, so probabilmente, è una cosa dell'opinione, ovviamente ragazzi non è legge, però io credo che la Juventus debba ambire a qualcosina di più. Che non vuol dire andare a prendere un giocatore random da una squadra random e metterlo al centrocampo, ma bisogna andare ad agire per caratteristiche. Molti hanno detto, è meglio Seballos o è meglio Ramsey? Seballos è meglio Seballos a livello tecnico, ma a livello, voglio dire, di completezza, se Ramsey fosse integro e qualche annetto più giovane, probabilmente sarebbe meglio Ramsey. Idem per Rabiot. Cioè ti voglio dire, è un buon giocatore, sicuramente ha delle buone qualità, però se io ti devo dire che con Seballos, ragazzi, abbiamo preso un top player assoluto che fa 20 assist a stagione, non te lo posso dire, perché è un giocatore che comunque con la maglia del Real Madrid ha avvertito un po' di pressione, con la maglia dell'Arsenal ci si aspettava che potesse fare qualcosina di più e invece anche lì ha faticato. Real Madrid, con tutto il rispetto, non mi può chiedere 40 milioni di euro solo perché l'ha comprato una cifra folle anni fa, perché secondo me è completamente sbagliato. E ripeto, il fatto che Real Madrid se ne voglia privare dopo un paio di stagioni è perché evidentemente questo ragazzo qualche cosa che non convince ce l'ha. Anche, io mi ricordo anche un'altra cosa, c'era un po' di attrito fra Ronaldo e Seballos ai tempi del Real Madrid, perché Seballos accusava Ronaldo di essere molto egoista. Era un po' del partito di Ramos più che altro, c'era una guerra interna. Fatemi sapere nello spogliatoio, ragazzi, scusate, volevo dire guerra interna nello spogliatoio che mi sono impicciato. Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate voi perché volevo una vostra opinione, perché sono sicuro che fra molti di voi ci saranno delle persone che ameranno alla follia Seballos e diranno Matt, ma questo va preso assolutamente perché è un buon giocatore, ti può far aumentare il tasso tecnico del centrocampo e ci sarà un gruppo di persone fra di voi che sicuramente mi dirà Matt, ma chi è questo? Probabilmente dovremmo andare a prendere comunque un altro giocatore, probabilmente dovremmo andare ad affrontare un altro tipo di nome. Fatemi sapere nei commenti.